Ben trovati, amici del Centrometrio Italiano. Dopo aver tirato le somme per quello che riguarda il mese di maggio, è ora di dare uno sguardo anche a quella che è stata la primavera meteorologica dal punto di vista del clima sull'Italia. Secondo i dati ISAC-CNR, le temperature hanno segnato un'anomalia positiva di 0.46 gradi, le quali hanno posto la primavera 2019 al trentottesimo posto tra le più calde di sempre sulla nostra penisola. Poco più calde della media anche le temperature minime e massime. Le prime, in particolare, hanno segnato un'anomalia di 0.45 gradi, risultando le trentaseiesime più calde di sempre, mentre per le seconde lo scarto è stato di 0.48 gradi, risultando le quarantottesime più calde dal 1800 a oggi. Per ulteriori dettagli seguite il nostro sito e scaricate la nostra app gratuitamente o per avere sempre tutte le previsioni dettagliate. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.